eccoci qua siamo a 40 chilometri da cesena fino adesso grazie a google maps abbiamo sgamato tutta la coda tra statali e mega statali poi teobor ha fatto un errore gravissimo stava postando che eravamo quasi arrivati e adesso siamo bloccatissimi fermi in coda quindi non si sa quando arriveremo però insomma dai ci siamo abbiamo visto che comunque a cesena stanno già montando tutto figata e niente vi aspettiamo numerosissimi speriamo di potervi dire qualcosa di meglio tra un po situazione qua ha peggiorato tantissimo io voglio mangiare il castrato esatto ma c'è c'è gente che vuole il castrato dopo